Benvenuti a tutti quanti ragazzi in questo nuovo video e siamo qui finalmente per parlare del fatto che la Konami abbia annunciato tutto ciò che uscirà insomma più o meno su Master 2 appunto per il secondo anniversario che ricordo ragazzi è stato il 19 gennaio ma lo festeggiano il 7 ok qui vedete qui in alto che c'è il counter ragazzi tra due giorni e 16 ore avremo l'update la Konami è letteralmente impazzita ragazzi uscita veramente fuori di testa questo perché ragazzi faranno uscire il selection pack di Agov adesso vediamo in che foro però intanto selection pack di Agov nel senso faranno uscire il reparto di Abel Star già adesso è il secondo anniversario ragazzi siamo ancora all'inizio di Dune ok e qui ci rilasciano già il pacchetto di Abel Star pazzesco vorranno rendere Rescue Ace Tier 0 non lo so non ne ho idea dobbiamo vedere ancora se preventere d'emergenza li faranno uscire in questo selection pack ragazzi ovviamente le news le abbiamo tutte qua le andiamo a vedere man mano giù insieme ma ragazzi questa qui è una cosa Konami fa a modo suo e lo vuole fare in grande pubblicizzando il set attualmente più costoso e più forte del metagame IRL OCG e TCG e lo vuole andare ad implementare anche qua su Master Duel questo per il fatto che a marzo dato che ci sarà la Duelist Cup vorrà spingere appunto su quel reparto anche evidentemente ragazzi per il mondiale che ci sarà ad agosto anche di Master Duel vorrà proprio spingere Diabel Star da tutte le parti praticamente due links forse a parte ma vedremo comunque abbiamo il selection pack ride into the future ragazzi dove appunto verranno introdotti i Infernoble Knight in modo da riuscire a renderlo comunque da meta abbiamo l'inserimento del reparto sin full spoil di Abel Star ragazzi qui dobbiamo vedere se Snake Eye Ash verrà inserito però a questo punto penso che verranno inserite le no vabbè ma se esce lui probabilmente verrà inserito anche Ash abbastanza sicuramente però attualmente abbiamo diciamo come fuoco livello 1 qualche carta Infernoble Knight, Idrante e Jet Synchron diciamo no di carte fuoco diciamo che Idrante è la carta protagonista probabilmente insieme al reparto di Abel Star attualmente poi si faranno uscire anche Poplar, Poplus ragazzi all'interno di Master 2 adesso io non so veramente che cosa dire penso che allora forse magari fanno uscire tutto quanto insieme giusto per darci tutto l'engine completo ma ragazzi Konami fa fuori di testa cioè veramente assurdo senza senso poi ovviamente Cosmic Quasa ragazzi è la parte Tech Genius che comunque è molto carina si può fare un bel forfare ma vabbè io lo so che la vostra attenzione se siete giocatori da meta è su queste carte quello è ovvio no? Poi a seguire ragazzi abbiamo il selection pack Name of Champions dove andranno inserire alcune delle staple delle carte insomma più importanti che andiamo in genericamente a giocare all'interno degli svariati deck da meta vedete access code vedete baronessa vedete la Lady Labyrinth certo voglio citare anche Ding Gear sui DPA va benissimo poi ragazzi lo strutture deck dei Blue Eyes finalmente ragazzi sul canale vi posso portare questo deck super mega giga ultra costoso senza dover togliermi 5 reni ragazzi perché veramente sono carte costosissime finalmente ve lo potrò portare ragazzi sul canale lo possiamo andare a giocare possiamo andarlo a migliorare però è la cosa che mi piace di più appunto dello strutture deck dei Blue Eyes ragazzi è il bundle questo perché introdurranno ragazzi l'artwork originale no? la prima artwork quella più bella che secondo me è più bella ragazzi è molto molto figa anche perché comprenderà ragazzi il Blue Eyes prismatico che è veramente molto figo come l'anno scorso abbiamo avuto la roba Dark Magician ragazzi qua avremo l'arena e tutto quanto del Blue Eyes per cui guardate anche le bustine protettive comunque sono veramente molto fighe dobbiamo dire la verità ok per cui avremo a quanto pare 30 Master Pack ragazzi adesso non so a che prezzo penso 2000 penso 2000 come quello dell'anno scorso del Mago Nero se non mi sbaglio ad ogni modo ragazzi potrebbe essere un pacchetto veramente figo proprio per avere l'artwork comunque del Blue Eyes originale io lo prenderò ovviamente solamente per quello no? poi prenderemo lo strutture deck andremo a sbustare queste follie ragazzi che veramente non hanno assolutamente alcun senso e proseguendo ragazzi avremo un altro set appunto col Chaos Max come mate e altre cosa sono 10 Master Pack 10 Master Pack e il mate del Blue Eyes Chaos Max a seguire avremo il login bonus laddove ci daranno 1000 gemme e 3 second anniversary pack con la Royal alla fine come abbiamo avuto l'anno scorso io non mi ricordo che cavolo ho sbustato e comunque avremo tre di queste booster ragazzi dove alla fine avremo una delle Royal Random tra quelle che sono rappresentate qua su questi pacchetti almeno penso eh poi vedremo insomma queste ragazzi sono attualmente le novità per il secondo anniversario i pacchetti disponibili per il secondo anniversario sì c'è tanta roba e ci regalano solo 1000 gemme però eh però vabbè insomma io auspico al fatto che voi abbiate risparmiato come vi ho sempre detto in live ragazzi risparmiate aspettate risparmiate aspettate il secondo anniversario ragazzi che deve uscire eh il nuovo deve uscire il nuovo pacchetto deve uscire la nuova roba e questo qua ragazzi il momento giusto sarà il momento assolutamente giusto per sbustare sia per i player competitivi col reparto di Abelstar sia per i giocatori for fun che non vedevano loro ragazzi finalmente di avere una decklist su youtube e di poter giocare senza spendere milioni di euro ragazzi la roba blue eyes sicuramente molti giocatori nuovi arriveranno grazie alla possibilità di comprare a 1500 gemme lo strutture deck dei il tre perde lo strutture deck dei blue eyes più questo pacchetto speciale insomma con l'arena e tutto il resto ragazzi per cui aspettatevi tante novità e tanto casino tanto bordello questo febbraio per poi ragazzi marzo ci sarà la duelist cup dove faremo ovviamente la maratona di 72 ore di faccio tre virgolette ragazzi per me devo riposare se no mi ammazzo ok detto questo ragazzi ci vediamo un prossimo video e ci vediamo mercoledì in live ragazzi mi raccomando è che andiamo a sbustare andiamo a fare tutto si c'è il cane ma ok alla prossima